Siamo qui con Demis Todeschini, responsabile italiano ETF Franklin Templeton, al quale chiediamo, dopo un 2019 che ha visto buone prestazioni da parte degli ETF, come sarà questo 2020? Il 2020 innanzitutto marca due importanti appuntamenti. Il trentesimo anniversario dell'arrivo del primo ETF in Europa, che vide le prime quotazioni nel 2000, e l'altro passaggio importante è quello del superamento per la prima volta in Europa di un trilione di dollari di massa in gestione di ETF. I ETF sono cresciuti molto in questi anni, hanno anche evoluto la loro forma da strumenti prettamente passivi, replicanti ai mercati, si sono aggiunti strumenti in grado di avere una selezione che non consideri esclusivamente la dimensione, che è la caratteristica che include un titolo all'interno di un indice oppure lo esclude, considerando i fondamentali delle società. E qui è l'avvento degli ETF, per esempio, Smart Bita, gli ETF multifattoriali. Altra evoluzione importante dell'ETF è per esempio quella dell'ETF attivo, dove il gestore gestisce indiscrezionalmente gli asset, pur avendo uno strumento quotato ad un basso costo. Quindi un'evoluzione importante che in risposta alle esigenze sempre più complesse da parte degli investitori, uno strumento che trova sempre più spazio anche in Italia, che ha visto per esempio durante il 2019 superare gli 80 miliardi di masse, con un particolare successo per esempio sugli ETF obbligazionari. Per il 2020 vediamo una crescita ancora sostenuta, doppia cifra dell'incremento delle masse degli ETF, anche grazie per esempio all'approdo dell'ETF come strumento a disposizione anche dei consulenti. Ovviamente le esigenze dei clienti sono sempre più evolute e il mondo della consulenza è fondamentale al centro della relazione con il cliente, una relazione che oggi è più complessa e che si apre anche a forme di consulenza, per esempio più evoluta, all'interno della quale gli ETF possono giocare un ruolo importante. Per questo motivo che oggi siamo qui presenti anche col mondo degli ETF in consulenza, perché vogliamo lavorare con i consulenti, vogliamo lavorare con le reti per quanto riguarda gli ETF e soprattutto dare tanta educazione. Sono passati 20 anni dall'arrivo degli ETF in Europa ma c'è ancora tanto da fare e questo è anche motivo del fatto che noi ci stiamo impegnando molto, stiamo lavorando molto con le reti e stiamo veramente facendo un ottimo lavoro anche sul fronte degli ETF. Grazie mille. Grazie a voi.